L'Isernia San Leucio diventa scuola calcio elite. L'importante riconoscimento è stato assegnato dalla FIGC. Solo tre realtà molisane hanno centrato il traguardo e solo quella bianco-celeste nella provincia di Isernia. Complimenti alla dirigenza e grazie a tutti i tesserati che si sono impegnati e hanno contribuito alla realizzazione di questo importante risultato. Si legge sulla pagina Facebook del club l'obiettivo raggiunto dimostra ancora una volta la grande attenzione che Isernia rivolge ai suoi giovani tesserati. E sì perché l'idea del club è quella di mettere i giovani talenti nelle migliori condizioni di essere formati per poi essere lanciati nel calcio dei grandi con alle spalle un bagaglio tecnico, atletico e tattico importante. Come non ricordare il lancio nel settore giovanile professionistico Sampdoria di Fraraccio dopo un'importante esperienza a Vasto Girardi oppure il modo in cui due giovanissimi Isernini, Ercolano e Zullo, si sono imposti nella stagione che si è da poco conclusa. E allora è facile intuire che la società continuerà ad investire con forza sul settore giovanile con l'ambizione di regalare un importante palcoscenico ai ragazzi del posto. Palcoscenico che potrebbe essere ancora più importante se Isernia San Leucio riuscirà a centrare l'obiettivo del ripescaggio in D, entrando nel torneo interregionale dalla porta di servizio. La domanda è stata inoltrata e i pentri hanno tutte le carte in regola per essere ripescati. Non resta che attendere ed incrociare le dita. La domanda è stata inoltrata e la domanda è stata inoltrata.